È una tragedia, ha esordito così il sindaco di Fano Massimo Seri che ha illustrato ai giornalisti i costi e le previsioni legate ai rincari di luce gas. A chiusura del 2022 la bolletta che riguarda l'illuminazione pubblica gestita da Aset registrerà un aumento di oltre 1.400.000 euro, mentre quella riferita agli edifici comunali e alle scuole 1.635.000 euro. Per questo il Comune sta continuando un percorso già avviato da tempo per mettere in campo azioni finalizzate a contenere i consumi in attesa di aiuti e misure straordinarie da parte del Governo. Innanzitutto si stanno studiando gli impianti degli edifici che hanno consumi maggiori, tra questi rientrano le scuole medie, i cimiteri e la Mediateca Montanari. Inoltre si porta avanti il piano di efficientamento globale dell'illuminazione perché ad oggi la riqualificazione ha riguardato solo il 35% dei punti luce della città. Tra le ipotesi rientrano anche lo spegnimento alternato di questi che alla fine dell'anno porterebbero ad un risparmio di circa 330.000 euro, oppure, nel caso più drassico ma meno probabile, lo spegnimento totale. Spegnendo lampioni stradali un'ora al giorno in orario notturno si avrebbe un risparmio complessivo di oltre 29.000 euro al mese. Sindaco, il suo ha detto un vero e proprio grido di dolore. Sì, un allarme che lancio perché ci deve essere la consapevolezza che questo caro bollette che riguarda l'energia elettrica, ma anche quella del gas, sta portando nelle famiglie, perché non pensiamo a chi è monoredito, alle difficoltà che porteranno, ma anche agli enti locali, ai comuni, pensiamo a tutta l'illuminazione pubblica. Noi abbiamo fatto delle proiezioni da qui a fine anno, da agosto a fine anno, dal momento degli aumenti delle bollette, perché avevamo i prezzi bloccati prima, ci sono delle cifre esagerate, importantissime, un milione e sette soltanto per quest'anno, sono quasi quattro milioni per il 2023 se le cose non cambiano, ma poi si aggiungono le spese del gas, si aggiungono le spese dell'impiantistica sporaria, pensate la piscina, i maggiori costi, quindi noi non riusciremo a dare risposte vere se non con interventi straordinari di risparmi, ma con dei sacrifici significativi, quindi sono due le cose importanti, uno che anche il governo come nelle crisi del Covid hanno fatto interventi significativi e dall'altro anche azioni. Intanto ha proseguito il sindaco, oltre agli investimenti per i nuovi punti luce LED, ci sono altri progetti, come gli impianti fotovoltaici che verranno installati il prossimo anno, ad esempio in località Monte Schiantello e al cimitero di Rosciano. Ebbene che ci sia la consapevolezza di questo momento straordinario, una richiesta forte al governo, aiuti al nuovo, perché siamo in attesa che ovviamente venga rinfinito, domani c'è un incontro anche tra noi sindaci marchigiani, perlomeno quelli aderenti ad Anci, nei massimi comuni più importanti, insieme alla collega Mancinelli, proprio per ragionare sulle misure da adottare, sulle azioni anche di rivendicazione. L'Anci è anche a livello nazionale impegnato a tavoli per trovare soluzioni, però ecco c'è questa situazione veramente forte e abbiamo il dovere che la città lo sappia e sia consapevole.